Ciao a tutti nel tubo sono con il video, oggi siamo qui in questo nuovo video della vanilla Ragazzi questo video sarà abbastanza veloce e vi spiegherò subito perché Avevo registrato 20 minuti di vanilla dove vi facevo vedere una cosa importantissima Però mi ha registrato tutto lo schermo nero, me ne sono accorta per fortuna a metà registrazione Quindi non avevo ancora finito, quindi in questo video finiremo appunto quello che avevo cominciato Quindi mi raccomando ragazzi, spaccate il tasto di like Voglio che lasciate like in questo momento guardando questa torcia Aspettate, è in quadro, ecco, guardando questa torcia, lasciate like Bravissimi, iscrivetevi al canale, se ancora non siete iscritti vi lascio il video, buona visione Allora che cos'è che ho fatto? Semplicemente ho finito la casa, come potete vedere, la casetta di Jawi L'ho finita, eccola qua E cos'ho fatto? Ho messo così il... come si chiama? No, l'avete capito? Ho messo così la clay, ovvero in basso e poi anche qua Anche se adesso mi appena ho avuto il pallino e vorrei provare a fare anche un'altra cosa Così, con questo in alto tolto E mettiamo invece... mi vuote si inghiozzo Mettiamo invece questo Oh, così va meglio, prima non mi piaceva, era tipo troppo alto Così mi piace un pochino di più Ok, perfetto Quindi ho finito la casa Al suo interno, vedete, è molto carino e semplice Magari adesso ci facciamo anche andare i cagnolotti A parte che ce n'è uno lì e non so perché Non ne ho idea, ragazzi, veramente Però adesso li prendiamo tutti Portiamo la famiglia di Jawi, bella e felice di qua Venite tutti con me, bei bambini Venite, entrate nella vostra godetta Adesso ci mettiamo anche le porte e tutto E sistemiamo anche il giardino Quindi venite da me, bellissimi bambini miei Questa è la vostra casa Quindi potete entrare Vedete, qualcuni hanno detto Eh, ma l'hai fatta troppo grande No, raga, è che semplicemente Io voglio allargare per bene la famiglia Quindi per allargare per bene la famiglia Vieni da me, bello Vieni da me, bravo, bravo Molto bravo Vieni da me, tesoro Vieni, venite tutti da me Perfetto Perfetto State qua seduti Anche tu entra qui dentro E stai seduto Poi magari mi metterò delle cucciette Ma mi hai fatto fare una cosa che non volevo fare Bastardo maledetto Va bene, tu sarai Jawi Deciso Perché tu sei uno un po' così Quindi dopo vado a prendere un colorante E ti coloro il guinzoglio Per farmi ricordare che sei tu Intanto voi fate fichi fichi Fate fichi fichi Fate un bel bambino Ti ho fatto un bambino? Bravissimi, che bel bambino Ah, mi fate fare i macelli Ok, perfetto Fate fichi fichi anche voi due Perfavore Ok, fantastico Fate fichi fichi, dai Perfetto Jawi, tu non puoi fare fichi fichi Tu sei ancora troppo piccolo, Jawi No, sto facendo alzare tutti Ti vuoi sedere? Ok, perfetto Quindi adesso magari appena No, tu dove cavolo vai? Ma la smettete di farmi fare i macelli Ste cavolo di pale Vieni da me Vieni da me, cucciolotto Anche tu Stai seduto No, state tutti seduti Tu, cucciolotto Tu Vieni da me Vieni da me Vieni qua, piccolo Lo vuoi? Lo vuoi? Vieni qua Ma perché non mi segui? Poi che cos'altro ho fatto? Come vedete da qui Ho fatto una piccola piscinetta Una piscinetta A forma di Di osso Perché ho pensato Che sarebbe stata Una cosa molto carina da fare Quindi niente La stavo riempiendo d'acqua Quindi ho fatto qua Le cose d'acqua infinita In modo che Non dovessi fare sempre sotto e sopra Intanto Jawi voleva farsi un bagnetto al volo Bravo Jawi Fatti pure un bagnetto Stai tranquillo Tanto io non ti aiuto a uscire Non è che Non credere che adesso Solo perché E allora Quindi ragazzi Praticamente stiamo Appunto Organizzando per bene Il quartierino Ops Ops Il quartierino Dei nostri Fantastici lupacchiotti Perché è importante Che loro si sentano A loro agio Nel Dove vivono E Jawi La smetti di metterti Tre piedi Per favore Puoi lasciarmi Un secondo di Di privacy Grazie Sei gentilissimo Tesoro Allora mettiamo qua Perfetto Quasi stabilizzato Quindi adesso Dobbiamo finire Dall'altro lato Poi devo fare Un ponticello Perché appunto Così Senza che dovremmo fare Il giro della piscinetta Ogni volta Sarà molto 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 più semplice Quando vogliamo raggiungere L'habitat Dei cagnolini Vedete questo piscinetto Devo dire Che mi piace molto Poi qua Finiamo un attimo Appena possibile Il ponticello E sarà tutto Molto più carino Poi avevo pensato Di recintarlo Però non lo so O comunque Di abbellire la zona In altri modi Perché così È ancora un pochino Vuota Poi farò ovviamente Tutto il sentiero Che porta Fino magari Al villaggio Eccetera eccetera Perché io appunto Vorrei Costruire Vorrei fare Unire tutto Con un sistema Di sentieri Molto molto Carino Anche se non vorrei Tenerli così piatti Perché vedete Così sono molto piatti Ma appunto Vorrei Ogni tanto Tra virgolette Interromperli Con della gravel Con dell'erbetta Insomma fare qualcosa Questa di carino Però queste cose Le faremo pian piano Mi spiace Non l'avevi fatto vedere La parte in cui Costruivo la piscinetta Però si è Praticamente Non so perché È registrato Tutto nero E quando l'ho visto Ho fatto No Io l'ho da fare Devo studiare Devo fare questo Quest'altro E tu mi metti I bastoni Tra le ruote In questo modo Ma perché Mi odi così tanto Se vedete Che non c'è la webcam Non è perché Me la sono dimenticata Ragazzi tranquilli È la questione Che vi No È la questione Che vi dicevo L'altra volta Ovvero che Praticamente Non ho Non ho ancora Cambiato le batterie E quindi Non ho la luce Scarica E non si vedrebbe nulla Quindi piuttosto Che mettere una webcam Dove non si vede niente Non preferisco non metterla Però tranquilli Appena riesco A comprare le batterie In realtà oggi sono andata E dai Oggi sono andata A fare la spesa Ma come la brava stupida Quale sono Ho completamente Dimenticato Ma proprio completamente Di prendere Le batterie E quindi niente Devo andare di nuovo Ditemi se secondo voi L'interno della piscinetta Dovrei riempirlo Con altre cose In altri modi E io lo farò Datemi voi in consiglio Perché sinceramente Non saprei Quindi adesso Facciamo in questa maniera E abbiamo terminato La piscinetta Ok perfetto Già vuoi tu Continua a farti il bagno Tranquillo Proprio Scellissimo Io intanto Finisco Qua di fare Questa bella Cosa interessante Allora Facciamo così Ci facciamo Un po' di questi E facciamo No Che palle Raga Che pizza Quando fa così Questa roba No dai Fammi sal Ok perfetto Fammi stare Dritta Allora Vediamo di qua Come ho fatto Ho dato uno di spazio E poi ho fatto così Poi di qua Ho anche fatto Sta cosa Effettivamente Che ha Senso Comunque Vediamo Perfetto Sì E tecnicamente Potrei farla Anche di qua Però Non verrebbe La stessa cosa Effettivamente Perché se io Lo faccio di qua Ragazzi Se Jawi Si toglie Mi fa un gran favore Jawi 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 Hai rotto il cacchio Jawi No no Gli ho fatto male No no Tesoro Mi spiace Non volevo farti male No 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 Mangia 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 No non ti posso far accoppiare Con nessuno Mi spiace Devi arrangiarti da solo Quindi vai in bagno Fai le cose che devi fare Però Non guardare me Che non posso Assolutamente Aiutarti Allora Qua c'è il centro Quindi facciamo Una cosa così Poi una cosa così Scommetto che adesso Le tolgo tutte E infatti Come una La pirla La bella pirla Quale sono Quanto sono carini Quando si scrollano Facciamo anche di così Ok perfetto Per fare qua Basta che invece Clicchiamo qua sotto Joey Oh che palle Joey Mi lasci lavorare Due secondi Per favore Via Oh Show Per favore Joey Io non è che Sono qui a Grattarmi Le cincischie E anche tu Cerca di capirmi Allora Facciamo così Molto semplice Poi faccio queste cagate Che mi vorrei Prendere appunto in bocca E via Abbiamo fatto Il ponticello Io finirei Con Una piccola Cosa Secondo me Che ci sta un botto Ovvero questa qua Di fare una roba del genere Così e così No Ok Togliamo questo E questo E ci mettiamo queste No Ma perché Quanto odio Le scale Ok perfetto E poi Leviamo anche di qua E facciamo Una cosa Del genere E poi Semplicemente Così E così E poi Facciamo anche Di qua E così abbiamo fatto Un ponte Piuttosto semplice Però appunto Dobbiamo prendere Altri di questi Che poi non so se avete notato Ragazzi ma praticamente Per tutto il legno Che mi serviva Ho ripopolato Tutta la zona Di alberi Il che è molto positivo Non mi fraintendete Però è abbastanza Wow Come cosa Insomma Facciamo così E così Come vedete Viene una cosa Anche piuttosto carina Magari questa zona Non la facciamo Con i tronchi Secondo me Questa zona Non va fatta Con i tronchi Assolutamente Invece qua Possiamo farlo Col tronco Secondo me Viene più carino Che con le scalette Esatto Una roba del genere E dobbiamo di nuovo Dormire Andiamo Allora Prendiamo i drop Poi li ripiantiamo Senza problemi Prendiamo anche questo Che secondo me Mi serviranno Ok Perfetto Poi sono andata in miniera Ragazzi Ho trovato un bordello di materiali E anche un bordello di diamanti Con la stessa tecnica Vi giuro raga Uguale proprio Identica Tecnica Che avevo utilizzato Nella rush E ho trovato un bordello di diamanti Mentre nella rush Non sono riuscita a trovarli Io mi chiedo Ma perché Perché Dove non Cioè Nella vanilla Certo che servono i diamanti Ma non è che servono Come ti servono ad esempio In una rush In una rush Ti servono subito i diamanti Cioè Proprio instant Proprio subito Invece Invece no No Niente Niente diamanti Nella rush Va bene Va bene D'accordo Allora Facendo così Viene questa cosa A mio parere Molto 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 Carina Però 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 Allora Vediamo un po' Come potremmo sistemare No Così Devo dire Che mi piace di più E dovremmo trovare Un modo Per unire di qua Di qua Vediamo se con Ecco Sono caduta Vediamo se con Ad esempio Ad esempio Ad esempio Ad esempio Facciamo una cosa Del genere Ora Non mi ricordo mai Come si fanno Forse Così Mi sembra Però non ne sono sicura Invece sì Facciamo un po' Difense Ok Così E Così E viene Molto carino A mio parere Molto 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 Carino E pittoresco Facciamo anche di qua Perché è più carino In questa maniera Infatti Le usiamo tutte Così Facciamo così E viene Molto carino Secondo me Possiamo ancora Abbellirlo Ci possono essere Tante altre cose Che possiamo fare Però Come vedete Già così Non è male Purtroppo Non ho la shaders Perché sono in 1.11 Altrimenti potremmo vedere Come viene con la shaders Però Devo dire Che così Non mi dispiace Però Non mi incomincia Al 100% Questa zona Secondo me Dovremmo togliere Anche questa zona centrale Molto Molto Meglio Molto Molto Meglio Devo dirlo Poi possiamo mettere Qualche pot Da bardare Qui negli intorni Poi magari Mettiamo Dei cancelletti Per loro Quindi facciamo Una cosa del genere I cancelletti Se non mi sbaglio Si fanno Nell'esatto Contrario Giusto Così Esatto Facciamo qualche altro stick Ancora Dovremmo farne Credo Così E così Così E così E poi così Così Ok Perfetto 3 Perfettissimo E facciamo In questa Maniera Ok Perfetto Così abbiamo 3 bellissimi Cancelletti Per entrare Nella casa Di Jawi E la sua famiglia Prima di terminare L'episodio Ah grande Jawi L'ha uccisa La fine della pecora Che avevo colpito Va bene Seguimi Jawi Andiamo a fare Una cosa Molto 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 Più Interessante Ovvero Andiamo a colorare Il Coso di Jawi Il La gnegne di Jawi In modo da Appunto Come si dice Come si dice Come si dice Jawi Ti prego Dimmi come si dice Ah è riconoscerlo Riconoscerlo Esatto Tra tutti Gli altri Lupetti Che ci sono Che anche loro Cambieremo il colore Ma in altri colori Che non siano L'azzurro Comunque questo Il magazzino finito Come vedete Ci ho messo il tetto Devo metterci ancora Qualche dettaglio Devo cambiare il pavimento E tutto Però si L'abbiamo finito Il magazzino E dovevo dire Che mi piace Un bel po Allora Facciamo In questa maniera E c'è Il light blue Che è meglio Del ciano Credo Poi proviamo Anche con il ciano Comunque E non so Dove è finito Jawi 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 Dove sei andato Jawi Povera Ah eccolo Tieni Ok per il momento Sarai light blue Però proveremo A metterti anche Quello ciano Per vedere com'è Però tu adesso Sei ufficialmente Jawi Se solo avessimo Una targhetta Che mi pare Che non abbiamo Anche se non ne sono sicura Adesso magari Vado a controllare Perché può darsi che in qualche dungeon Io l'abbia trovata Ma credo Di no Intanto c'è questo cane Che ormai È qui Cioè non Lo chiameremo Billy Joe Perché boh Mi sa di Billy Joe Che sta lì a fare robe E tutto Il nostro Il nostro Granaio Che dobbiamo ancora finire Con tutto il grano attorno Però prima o prima Vi giuro che lo faremo Vediamo un attimo Se ci sono le targhette Da qualche parte Sono sicura Di non averle trovate Però può darsi pure Che io Mi sbagli Tra l'altro Dobbiamo anche trovare Una pallude Per le slime ball Anche quelle sono molto importanti Perché dobbiamo fare i lacci Per prendere i lama Però no Non abbiamo una targhetta Il crafting Non è stato aggiunto Come invece è stato aggiunto Se non mi sbaglio Nel laccio Non vorrei dire una cagata Ma sono abbastanza sicura Che il laccio Adesso abbia un crafting Però Però ragazzi Qua sembra essere esploso qualcosa Però va bene Però ragazzi Qui nel villaggio Ci sono i nostri Dovrebbero esserci Ma non vedo I nostri villager Che magari Ce l'hanno una name tag Da scambiare Eccovi qua Allora vediamo No Tu mi dai Lure Lure non mi ricordo Che cos'è Forse è quello Da mettere sulla canna da pesca Non ne sono sicura Però tu sei abbastanza interessante Come trader Quindi magari poi Ti teniamo da qualche parte No Devo entrare in realtà Credo Nella loro casetta Perché secondo me Loro ce li hanno I trade belli Vediamo un po' Che cosa avete voi Signori Vengo un attimo A trovarvi Spero non vi dia fastidio Vi griffo un attimo La casa Faccio subito Quanti siete qua? Allora Tu cosa mi dai? Two turns Ok perfetto Non mi interessa Voi quanti siete qua? Cosa state combinando? No Non mi interessi No Non mi interessi Sì ma Potreste un attimo Levarvi tutti da lì Perché magari non riesco A centrarvi tutti? No raga La testa di Jawi Che spunta da lì È bellissima No Jawi Stai tranquillo Li sto picchiando Soltanto per toglierli da qua Non voglio che li ammazzi Però Se magari si togliessero da qui Sarei la donna più felice del mondo Perché così potrei controllare Se hanno una name tag Ma non lo fanno Quindi vaffanculo Me ne vado e basta Brutti bastardi Che non mi vogliono ascoltare Quindi niente raga Dovremmo Mi sa trovarla in qualche dungeon E Anche se Boh Non so se sarà molto semplice Da trovare Ma noi ci proviamo Vorrei anche creare Un centro città Magari sistemando tutte queste buche Sistemando tutto il villaggio Sistemiamo il villaggio E creiamo un centro città Dal quale connettere Tutti quanti i sentieri Questo sentiero Il sentiero per il granaio Il sentiero della casa Tutti quanti i sentieri Porteranno a Roma Eh volevo dire Il centro città Scusate Comunque spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando ragazzi Lasciate un bel like Un commento Iscrivetevi Datemi tanti consigli Per questa serie Ditemi se questa casa Vi piace personalmente Mi piace un sacco Veramente Veramente carina Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti